Buongiorno a tutti, Giuseppe Stivo, Comune di Torino, sono nella segreteria tecnica dell'assessore Claudio Lubatti e seguo per lui i progetti europei e i progetti che riguardano la logistica merci. Oggi sono qui per rappresentare l'amministrazione per quanto riguarda il progetto sulla logistica merci, un progetto che è iniziato nel 2012 con la firma di un patto tra le città e il ministero, le città coinvolte sono Torino, Napoli e Milano e dopo 4 anni siamo qui a fare un bilancio, un bilancio positivo dove con gli operatori abbiamo portato avanti una sperimentazione dove siamo riusciti a dimostrare che dando la territorialità possiamo permetterci di convincere gli operatori a cambiare mezzi e utilizzare mezzi più ecologici, possiamo pensare anche all'utilizzo di mezzi elettrici che sono quelli più costosi e quelli più difficili da portare sul campo. Oltre a quello il nostro progetto è molto incentrato sull'ITS, per la prima volta vengono installate unità di bordo sui veicoli e i dati del traffico vengono trasferiti alla nostra centrale 5T e con questi dati possiamo iniziare a pensare anche solo per la logistica e merci a una futura programmazione specifica.